100.000 persone senza acqua né cibo sono ancora intrappolate nella città portuale di Mariupol che continua ad essere costantemente bombardata dai russi. Il presidente Zelensky ha lanciato un nuovo appello per la loro evacuazione ma proprio questa mattina 11 pullman che avrebbero dovuto trarre in salvo centinaia di civili sono stati fermati e trasferiti in una destinazione sconosciuta dalle forze di Mosca. Zelensky che in mattinata è intervenuto davanti al parlamento giapponese e alle 15 si rivolgerà a quello francese spiega che le trattative sono molto complicate e torna a lanciare un appello al mondo per fermare Putin. Di negoziati difficili parla anche il ministro degli esteri russo Lavrov mentre il portavoce del cremlino Peskov avverte armi nucleari possibili se la Russia viene minacciata. Domani a Bruxelles il vertice europeo, quello del G7 e dell'Alleanza Atlantica. Proprio alla Nato Kiev ha lanciato un nuovo appello per la fornitura di armi offensive come i missili a medio raggio. A Bruxelles ci sarà anche il presidente americano Biden che ha già annunciato nuove sanzioni contro la Russia, tema su cui questa mattina sono tornati anche Mario Draghi e il cancelliere tedesco Scholz che sull'ipotesi di un embargo al gas russo avverte tutta l'Europa precipiterebbe nella recessione. Il premier italiano sottolinea occorre una risposta comune sia sul piano economico che su quello dell'energia. L'Italia lavorerà per la fine delle ostilità ma lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca. Buongiorno dalla telegiornale della Sette, dunque come avete sentito già dal nostro titolo nel ventottesimo giorno del conflitto in Ucraina si combatte alla cremente a Mariupol, una città ormai rasa completamente al suolo ma nella quale ci sono migliaia di civili ancora intrappolati. Parallelamente la strada della diplomazia corre tutta in salita. Domani il vertice europeo è quello della Nato alla quale prenderà parte il presidente degli Stati Uniti Biden dopo l'ultimo durissimo scambio di accuse tra Washington e Mosca con il Cremlino che ha precisato che l'uso di armi nucleari avverrà soltanto se la Russia sentirà minacciata la sua stessa esistenza e gli Stati Uniti che impongono nuove sanzioni, questa volta nei confronti dei principali membri della Duma. Sbarca in Europa annunciando nuove sanzioni Joe Biden, ulteriori restrizioni che puntano dritte, scrive il New York Times ai 300 membri della Duma. Non è un segreto che il presidente americano spinga per isolare completamente Mosca imponendo un blocco al settore dell'energia dal quale la Russia ottiene i fondi per finanziare la guerra. Su questo punto è ancora aperto il distinguo con una fetta di Europa, come ha sottominato questa mattina in un'audizione al Bundestag e il cancelliere Scholz. La Germania vuole chiudere la condizione di dipendenza dalla Russia sul piano energetico nel lungo periodo, ha detto Scholz, ma farlo da un giorno all'altro significa per il nostro paese e tutta l'Europa precipitare in una recessione, centinaia di migliaia di posti di lavoro sarebbero in pericolo, tutta l'industria sarebbe sul baratro. Nei tre vertici previsti nei prossimi due giorni l'Occidente darà comunque prova di unità su tutti i temi chiave. Si parte con un consiglio atlantico sul rafforzamento dell'Alleanza d'Est per discutere del sostegno militare da dare all'Ucraina. Oggi Kiev ha chiesto all'Occidente di fare un salto di qualità nel coinvolgimento del conflitto e di inviare armi considerate offensive. Sul tavolo anche una possibile forza multinazionale da dispiegare in caso di cessate il fuoco, come richiesto dalla Polonia che oggi ha cacciato oltre 40 diplomatici russi accusati di spionaggio con Mosca che ha promesso una risposta appropriata. La NATO però, ed in particolare gli Stati Uniti, ritengono molto pericoloso mettere i propri uomini a stretto contatto con le truppe russe. Poi il summit europeo sul quale Biden in un discorso del 27 annuncerà le sanzioni comuni e nel quale verranno varate le linee guida di un più forte sostegno finanziario ed umanitario a Kiev. Infine un G7 al centro del quale ci sarà il coordinamento con i partner non europei ed una discussione sul ruolo ambiguo della Cina in vista del prossimo incontro. Rosino americano del primo aprile. L'offensiva diplomatica russa questa mattina arriva per bocca del ministro degli esteri. Lavrov, gli Stati Uniti non sono interessati alla rapidità dei colloqui fra Russia e Ucraina, dice Lavrov. In un discorso all'Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca vogliono mantenerci in uno stato di ostilità il più a lungo possibile. L'America vuole un nuovo ordine mondiale nel quale contenere la Russia ed ogni altro paese che agisca in modo indipendente sulla scena globale. Parole che si legano a quelle ambigue e minacciose pronunciate ieri dal portavoce di Putin Peskov alla CNN in Russia. Abbiamo un concetto molto chiaro di sicurezza nazionale, ha detto, che prevede l'uso di armi nucleari solo in caso di minaccia alla nostra stessa esistenza. Putin vuole che il mondo capisca le nostre preoccupazioni. Abbiamo cercato di spiegarle per due decenni, ma nessuno ci ha ascoltati. Adesso un aggiornamento che riguarda la situazione dell'approvvigionamento del gas che come sappiamo è fondamentale soprattutto in Europa. Da ora in poi, dice Putin, che sta proprio in questo momento parlando, l'Europa ce lo dovrà pagare in rubli. Sono questi i primi lanci di agenzia rispetto alle parole che sta pronunciando adesso Putin. Come sappiamo il tema dell'energia sarà al centro, proprio domani, anche del vertice europeo che si terrà e al quale parteciperà anche il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, che oggi ha dato la sua comunicazione su quanto porterà al tavolo europeo proprio al Parlamento, alla Camera dei Deputati. Ha parlato di una situazione diplomatica complessa che si risolverà solamente quando davvero Mosca lo vorrà. Nel discorso di Draghi è stato toccato anche il tema del rapporto con Pechino del rapporto diplomatico perché la Cina non sostenga la Russia ma si spenda per la pace. E poi è quello che è il tema cruciale del caro energia per la quale si auspica da parte del nostro Premier una soluzione a livello comunitario con un vero e proprio tetto del prezzo del gas messo dall'Unione Europea. La comunità internazionale ha adottato sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia. Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca. Mario Draghi in Parlamento illustra il quadro con il quale dovrà confrontarsi domani a nome dell'Italia al Consiglio Europeo. Le sanzioni appunto che in un paese come il nostro a forte dipendenza dal gas russo possono avere conseguenze più importanti che in altri specie se si romperà quel canale di approvvigionamento. Da qui la richiesta blindata in un vertice la scorsa settimana con i paesi mediterranei Grecia Spagna e Portogallo di un intervento comune europeo che riduca l'impatto dei costi sulla vita dei cittadini. La risposta a difesa di consumatori e di imprese deve essere anche europea. Dobbiamo arrivare a una gestione davvero comune del mercato dell'energia. Serve un approccio condiviso sugli acquisti e sugli stoccaggi per rafforzare il nostro potere contrattuale verso i paesi fornitori e tutelarci a vicenda in caso di shock isolati. Necessario comunque variare le fonti e non mettere fine alla transizione ecologica e se sui migranti la linea comune invocata per anni dall'Italia in quest'occasione sembra prendere forma nei programmi di accoglienza e nel loro finanziamento a partire dai paesi di Visegrad. Un altro fronte sul quale l'Europa deve agire insieme è quello militare. Si augura Draghi che su questo palcoscenico deve fare i conti con i malumori nella sua ampia maggioranza dove resta forte il fronte antimilitarista. Ma Draghi garantisce l'Italia non si tirerà indietro sugli aiuti militari, chiede di accelerare sulla difesa comune europea e intende adeguarsi all'obiettivo del 2% delle spese per la difesa. Come prevede il documento sul futuro della sicurezza europea che sarà sul tavolo del vertice a Bruxelles. Aumento degli armamenti che oggi non è in discussione in Europa ma lo è nella maggioranza dove si fanno sentire anche in molti distingue sull'invio di armi agli ucraini. Come dimostrano le assenze contate ieri oltre 300 in Parlamento durante il discorso di Zelensky. Pesano i 5 stelle il caso Petrocelli, il presidente della Commissione Esteri del Senato accusa l'Italia di essere co-beligerante. Mentre dalla Lega Salvini ostenta un disagio a parlare di armi. Ma il Premier schiera l'Italia bypassando i dubbi. Noi siamo dalla parte di Kiev e sosterremo anche il suo processo di ingresso nell'Unione Europea che sarà a lungo. Non ci sono scuse per chi come Putin aggredisce non si può predicare l'equidistanza, il suo ragionamento. E' un terreno scivoloso che ci porta a giustificare tutti gli autocrati, tutti coloro che hanno aggredito paesi inermi, a cominciare da Hitler, a cominciare da Mussolini. Le parole di Papa Francesco nell'udienza generale hanno toccato chiaramente ancora una volta la guerra in Ucraina, il suo pensiero alle persone sfollate, a quelle che fugono, a quelle morte o ferite, ai tanti soldati caduti da una parte e dall'altra. Con la guerra tutto si perde, ha detto Bergoglio, auspicando che i governanti capiscano che comprare armi e fare non è la soluzione al problema, la soluzione è lavorare insieme per la pace. Intanto l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede assicura che verrà fatto il possibile per organizzare la visita di Papa Francesco a Kiev. Papa Francesco che proprio ieri, in un collegamento con Zelensky, si è sentito con il Presidente ucraino che lo ha invitato a Kiev. Truppe russe e delle repubbliche separatiste del Donbass starebbero combattendo, sono entrate a Mariupol penetrando nella zona urbana dove la resistenza combatte alla cremente per non cedere la città. Il Presidente Zelensky è tornato, arriva a dire il suo appello affinché vengano consentiti corridoi umanitari anche da questa città. «Continuiamo a lavorare a vari livelli per spingere la Russia alla pace e a porre fine a questa guerra terribile. I rappresentanti ucraini si stanno occupando delle negoziazioni che continuano quotidianamente in modo estremamente difficile e talvolta scandaloso. Tuttavia stiamo andando avanti, un passo dopo l'altro». Attualmente sono circa 100.000 le persone che ancora vivono nella città di Mariupol in condizioni disumane, sotto completo assedio senza cibo, acqua e medicine, sotto continui bombardamenti. Per diverse settimane abbiamo cercato di organizzare corridoi umanitari stabili e sicuri per i residenti di Mariupol e quasi tutti i nostri tentativi sono stati sfortunatamente ostacolati dai bombardamenti o dal terrore seminato dagli occupanti russi. Oggi uno dei convogli umanitari è stato catturato dagli invasori russi vicino a Manush sulla rotta concordata, fra l'altro. I soccorritori e gli autisti degli autobus sono stati fatti prigionieri. Stiamo facendo tutto il possibile per liberare la nostra gente sbloccare gli spostamenti degli aiuti umanitari. Tuttavia fino ad oggi siamo comunque riusciti a evacuare 7.026 residenti da Mariupol e continueremo questo lavoro importante. Queste dunque le parole, l'integrale del presidente ucraino Zelensky su quella che è appunto l'allarme umanitario dal più forte, più grande teatro dell'orrore appunto Mariupola. Andiamo adesso a Leopoli dal nostro inviato Fabio Angelicchio per capire complessivamente quella che è la situazione in queste ore sul campo e anche quello che è il fronte umanitario. Fabio buongiorno. Sì Luca, buongiorno da Leopoli e proprio come dicevi tu e come ci ricordava poi Paolo Stella nel servizio sul presidente Zelensky la situazione forse peggiore da un punto di vista umanitario è quello che si sta vivendo a Mariupol nel sud del paese, questa città strategica perché è una città portuale per il mare Dazov. Qui le truppe russe sarebbero entrate e i racconti che arrivano da lì sono racconti drammatici ma soprattutto si sta impedendo agli abitanti oltre 100.000 di poter lasciare la città. Sono stati bloccati, sequestrati come si ricordava 11 autobus vuoti che sarebbero dovuti andare a prendere proprio le persone che abitano lì, sono state sequestrate dai militari russi. Ma non c'è soltanto Mariupol perché Kiev, la capitale del paese è circondata, assediata da tempo, ci sono frequenti bombardamenti anche se mirati su alcuni obiettivi particolari ed è drammatica la situazione anche a Odessa, c'è stata una notte di bombardamenti, le navi russe vogliono sbarcare le truppe anfibie poi anche a Kharkiv ma anche qui alla stessa Leopoli si respira davvero una tensione diversa con il passare delle ore. Ma facciamo il punto che ha preparato per noi Ninfa Colasanto. Restare o provare a fuggire, resistere nei rifugi o tentare di scappare per mettere in salvo la vita rischiando però di finire allo scoperto nelle mani dei russi. Perché nessun ponte umanitario dei nove attivati per oggi in Ucraina è stato concordato a Mariupol. La corsa contro il tempo per evacuare il più alto numero di civili, ce ne sono ancora decine di migliaia in città senza cibo, acque medicinali, va avanti a Singhiozzo, il luogo simbolo della resistenza e devastato dagli attacchi che continuano incessanti da oltre 20 giorni senza risparmiare case e ospedali. Del resto se i russi vogliono un corridoio tra il Donbass ad est e la Crimea ad ovest devono conquistare Mariupol, la più importante città sul mare da Zoff, snodo portuale pedina essenziale nel progetto putiniano. Le forze separatiste dell'autoproclamata repubblica secessionista filorussa del Donetsk sostengono di aver ottenuto già il controllo di oltre la metà del territorio cittadino. Carri armati russi si aggirano nelle strade del centro. La vice primo ministro ucraina Irina Vereshkuk questa mattina ha denunciato nuove violazioni ai danni dei civili che tentano di lasciare villaggi intorno a Mariupol, 11 autobus e due veicoli, ha detto, sono stati sequestrati ad un posto di blocco russo. Presi in ostaggio anche quattro ufficiali e 11 autisti chiediamo alla Croce Rossa internazionale e all'ONU di aiutare la nostra gente a fuggire. Questa invece è Cernihiv, 130 chilometri a nord di Kiev, un ponte cruciale per trasportare aiuti umanitari ed evacuare civili, è stato bombardato nella notte. Mosca ha rivendicato la distruzione di 83 obiettivi militari nelle ultime 24 ore, compreso un deposito di armi nella città di Rivne, nell'Ucraina occidentale. La Tenaglia si stringe da terra e da mare. La notte scorsa diverse esplosioni si sono udite a Kiev. Queste immagini mostrano invece il lancio di missili da una nave russa a largo della Crimea ad ovest della città di Sebastopoli. Mikolaiv ad est di Odessa è un altro obiettivo strategico dell'avanzata russa. Il portavoce delle truppe anfibie d'assalto ucraine ha fatto sapere nelle ultime ore che la città è ancora sotto il controllo dell'esercito di Kiev. Le truppe russe sono a 40 chilometri e hanno preso dei villaggi né d'intorni della città. Un altro video mostra invece unità cecenne che combattono nei sobborghi della capitale al fianco degli ucraini, al contrario dei loro connazionali mandati da Kadirov impegnati assieme all'esercito russo a Mariupol. Allora questo era il servizio sul campo, il punto della situazione che ha fatto per noi la collega Ninfa Colasanto ma la situazione è in continuo divenire naturalmente. C'è una zona in particolare sulla quale sono puntati gli occhi in queste ore ed è la zona che si trova a nord dell'Ucraina e cioè verso i confini con la Bielorussia. Perché? Perché si starebbe aprendo un fronte, questo è quello che sostengono alcune fonti dell'Alleanza Atlantica della Nato già da ieri, che il presidente della Bielorussia che da sempre è stato considerato un alleato forte di Mosca e del presidente Putin starebbe, come dire, tornando indietro sui suoi passi perché prima aveva ribadito la neutralità del suo paese rispetto al conflitto, a questa invasione russa, anzi all'operazione speciale come ama definirla spesso il presidente Putin e invece sarebbe pronto nelle prossime ore a unire, a far unire le sue truppe insieme a quelle russe e probabilmente anche per cercare di superare i confini e entrare nel paese. Un paese che, come ricordavamo, è ormai sottoposto a continui bombardamenti e raid. Si continua a dire che la Russia ha fermato di fatto la sua avanzata. Di poco fa la notizia è che la potenza bellica della Russia sarebbe scesa sotto il 90%, come dire, c'è un indebolimento e sono ormai giorni che si continua a ripetere che i soldati russi avrebbero a disposizione circa tre giorni di provviste, così come sarebbero in diminuzione anche i rifornimenti. Questo è naturalmente un aspetto importante di una guerra, cioè quello di far affluire i rifornimenti con una catena che possa garantire l'offensiva delle truppe russe. Però la situazione sul campo è quella che ci è stata descritta. Odessa, come Mariupol, sono due città strategiche perché affacciano sul mare, perché sono due città portuali e i russi devono assolutamente conquistarle. Su Odessa non se ne è parlato abbastanza, ma in realtà i tentativi sono ripetuti negli ultimi giorni perché i piani previsti dai comandi russi, dai comandi di Mosca, sono quelli di far avvicinare il più possibile le navi della flotta russa per poter far sbarcare delle truppe anfibie che possano poi in qualche modo entrare e chiudere così il cerchio attorno a Odessa. Però è Mariupol forse la questione che attira maggiormente l'opinione pubblica mondiale ed è appunto con il suo dramma umanitario. A te Luca per il momento. Grazie a Fabio Angelicchio. Tra poco riusciamo forse a far sentire anche le testimonianze che ci hai poco fa inviato e che riguardano le persone che da Mariupol sono fuggite, sono riuscite ad arrivare a Leopoli. Ci sono notizie che riguardano denunce da parte delle autorità ucraine, tra queste il sindaco di Irpin e la stessa polizia di Kiev che riferiscono dell'utilizzo da parte russa di bombe al fosforo bianco, quelli che sono stati i bombardamenti del 22 marzo nelle città satelliti a Kiev. Questa è una nuova denuncia. E poi dicevamo il dramma delle persone in fuga, le testimonianze raccolte dal nostro Fabio Angelicchio che ascoltiamo. Come si chiama? Mi chiamo Irena. Da dove viene? Noi siamo usciti da Mariupol il 16 marzo. A Leopoli noi siamo arrivati oggi. Com'è la situazione a Mariupol? Brucino le case. Le persone da tanti giorni vivono nelle cantine e nei rifugi. Ci sono delle racchette che scoppiano durante la giornata. La gente prepara il cibo sul fuoco e tante persone sono rimaste senza le case perché sono state distrutte. I militari russi come si comportano? Personalmente io non ho avuto i contatti con dei soldati perché cercavo di vivere come una persona civile senza andare nei posti pericolosi. Suo figlio come vive questa situazione? Come si sente? C'è tanta paura perché se devi portare il cane a spasso, se devi andare a prendere l'acqua potabile e mentre stai camminando senti bombe volare sopra la testa, hai tanta paura. E dunque, milioni di persone in fuga, almeno tre e mezzo come sappiamo, quelle che sono riuscite a uscire dall'Ucraina. 60.000 ai rifugiati in Italia, per lo più donne e bambini, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni, ma per accogliere dei bambini è importante anche guardare al dar loro un inserimento scolastico, un qualcosa che il nostro Ministero dell'Istruzione sta facendo, mettendo anche alla prova il suo sistema davanti a numeri che nell'ultima settimana sono raddoppiati. Alcuni istituti stanno organizzando corsi di italiano nel pomeriggio, altri hanno chiesto supporto ai docenti in pensione. Ovunque ci si aiuta, innanzitutto col traduttore online. L'inserimento di bambini e adolescenti ucraini nelle scuole sta mettendo alla prova le risorse di insegnanti e dirigenti. Il Ministro Bianchi oggi ha detto che sono già 5.300 gli studenti accolti, numero raddoppiato rispetto alla scorsa settimana. Una previsione ragionevole d'accoglienza è di 20.000 ragazzi da inserire. All'Istituto Comprensivo di Via Moscati a Milano sono arrivati in 5, tra primaria e secondaria. Il dirigente, Giorgio Sturaro, ha fatto il giro delle classi per annunciare gli arrivi dei nuovi compagni. Grande entusiasmo delle classi, cioè dei bambini e dei ragazzi, al momento della notizia. Al momento della notizia, quasi attesa perché poi si sa che arrivano, ma a noi non arriva nessuno eccetera eccetera. È vero che l'inserimento adesso con questi numeri è possibile laddove c'è posto, laddove la classe sembra adeguata. È chiaro che a un certo punto noi dovremmo mettere anche nelle classi meno adatte o a un certo punto dire che non c'è più posto. Per ora i numeri sono contenuti ma sono destinati a crescere. Ad esempio a Milano ci sono circa 200 richieste di iscrizione. In Piemonte l'ufficio scolastico regionale ha chiesto ai dirigenti di segnalare quanti bambini possono inserire e i sindacati chiedono che siano predisposti i mediatori. Intanto in classe si punta sull'accoglienza. Spiega maestra Sandra che nella sua seconda ha ora un bambino di 7 anni. La mamma lavorava qui e quando è scopiata la guerra è andato a riprenderlo. Stiamo puntando ad attività che mirino alla creazione di un gruppo classe, cioè l'inserimento di un bambino all'interno di un gruppo classe anche nei momenti non strutturati, quindi ludici, in intervallo eccetera. Da un punto di vista didattico ci stiamo un po' facendo guidare da quello che sono le sue attitudini. Per gli adolescenti ci si aiuta con qualche parola di inglese. In terza media è arrivato un ragazzino di 15 anni. Sarebbe stato complicato inserirlo alle superiori per gli ultimi due mesi di scuola. Parlano un po' in inglese, un po' utilizzando il Google traduttore per cercare di comunicare fra loro. Quasi tutti i docenti ci siamo un po' attivati per cercare anche di portarlo fuori e fargli fare un po' di lezioni di italiano. Dal Ministero sono stati stanziati fondi per un supporto psicologico a questi bambini, ma senza i mediatori è difficile superare lo scoglio di una lingua poco conosciuta. Le conseguenze economiche adesso. Abbiamo detto di come domani a Bruxelles sul tavolo del vertice dell'Unione si parlerà di come mitigare le conseguenze della dipendenza da parte dell'Europa dal gas russo. Sicuramente un passaggio importante è stato compiuto. L'Unione ha tolto il lucchetto, diciamo così, perché si possano aiutare le imprese da parte dei singoli stati nell'affrontare l'aumento dei costi e la crisi economica che deriva dal conflitto. Bruxelles dà il via libera agli aiuti di Stato per contenere il caro energia e l'impatto negativo della guerra in Ucraina sulla ripresa economica europea. A dare l'annuncio è la commissaria alla concorrenza Vestager, per la quale è fondamentale sostenere le aziende e i settori gravemente colpiti. Dobbiamo agire in modo coordinato, ha detto e consentire agli stati dell'Unione di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per fare fronte a questa situazione senza precedenti, proteggendo nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico. Per Bruxelles, come è noto, gli aiuti di Stato sono vietati perché ledono la concorrenza del mercato, ma come fu per la pandemia, anche in questo nuovo contesto sono una misura necessaria per salvare tante aziende dal rischio di chiudere i battenti a causa dei prezzi dei beni energetici schizzati alle stelle. I governi dunque, anche se per un tempo limitato, saranno liberi da questi vincoli europei e potranno intervenire per aiutare le imprese e le filiere produttive a superare questa nuova crisi. Ma da Bruxelles oggi arriva anche un altro intervento per limitare gli effetti del caro gas e la dipendenza dell'Europa dalla Russia. La Commissione ha presentato una proposta legislativa per imporre agli Stati di fare scorta di gas entro il prossimo novembre, riempiendo almeno fino all'80% i depositi. L'obiettivo è quello di garantire che gli stoccaggi di gas possano essere condivisi in tutta l'Unione in uno spirito di solidarietà. L'idea di portare legna in cascina per far fronte ad ogni imprevisto è stata lanciata dal Premier Draghi già prima del conflitto, spronando Bruxelles a dare risposte comuni all'emergenza energetica. Così come fatto per i vaccini anti-Covid e per Draghi è necessario che sia la Commissione a fare acquisti centralizzati di gas per tutti i paesi dell'Unione per abbassare i prezzi. Vedremo che deciderà il Consiglio europeo domani. Intanto sul fronte interno comincia a dare i primi effetti il decreto energia varato da Palazzo Chigi venerdì e pubblicato in gazzetta ufficiale lunedì sera. Scattato dunque ai distributori il taglio di 30 centesimi e mezzo al litro su benzina e gasolio, mentre per il GPL è di 10 centesimi. Una misura valida fino al 21 aprile che il Governo potrà rinnovare ancora. Con le immagini da Washington vi facciamo vedere l'elicottero che è partito dalla Casa Bianca che porta il Presidente degli Stati Uniti Biden che sta partendo per il suo viaggio in Europa. Prima di partire proprio Biden ha sottolineato come l'uso di armi chimiche da parte della Russia sia una minaccia reale. Dunque Biden che torna su questo punto. Parliamo della nostra sottoscrizione, di quell'aiuto che se vorrete potete dare tramite la nostra raccolta fondi, un aiuto subito per l'Ucraina. Lo scopo è quello appunto di aiutare le organizzazioni umanitarie a partire dalla Croce Rossa che offrono assistenza. Vedete l'Iban per le donazioni, il codice che serve per le sottoscrizioni dall'estero, mentre come sempre vi ricordiamo che il codice beneficiario consente di non pagare commissioni nei versamenti. Allo stesso tempo vi ricordo dalle 17 questo pomeriggio, anche questo pomeriggio, lo speciale sul conflitto condotto da Enrico Mentana. E adesso parliamo della situazione del virus, del Covid. In queste ore proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato come molti paesi europei, tra cui l'Italia, abbiano tolto troppo bruscamente le restrizioni. Per questo motivo quella sotto variante di Omicron sta facendo salire la curva dei contagi, che non impatta molto pur facendosi sentire nei ricoveri ospedalieri ordinari che stanno in queste ore aumentando. Ci sono 92% di vaccinati in Italia, come ricordano le autorità sanitarie, ma il virus non è assolutamente passato. I numeri di ieri, delle ultime 24 ore, ci parlano ancora di quasi 100.000 contagi e soprattutto di circa 200 morti. Allora, Gui Chiapaventi, per parlare di questa Omicron 2, così l'abbiamo ribattezzata, ha raggiunto il professor Lavecchia, che è uno dei principali epidemiologi italiani. Lo ascoltiamo. Ieri quasi 200 morti e quasi 100.000 positivi. Che significa? Che la situazione si fa di nuovo preoccupante? Si rifà preoccupante. È un aumento che comunque comincia a livellarsi. La media giornaliera su una settimana è di 70.000 e quasi certamente sarà decisamente inferiore rispetto all'ondata che abbiamo avuto in gennaio e febbraio. Le previsioni a qualche mese sono molto positive. Le previsioni sono vicino a zero morti a giugno-luglio. È una variante di Omicron? È Omicron 2? È una sottovariante di Omicron che si chiama BA2 e ha caratteristiche cliniche analoghe a Omicron, ossia è meno grave di Delta e delle varianti precedenti, ma è ancora più contagiosa di Omicron, di circa il 30%. Chi ha preso Omicron a gennaio può reinfettarsi con questa variante? È poco probabile. La stima è attorno al 3%, mentre è più probabile che si infetti chi ha preso le varianti precedenti. Cosa bisogna fare? Proteggere gli anziani e i fragili, che sono coloro che anche con Omicron 2 possono andare in ospedale, possono andare in terapia intensiva e purtroppo possono anche morire. Gli anziani fragili devono contenere ogni contatto, perché per gli anziani fragili la situazione può essere ancora grave. Mentre per i giovani e per gli adulti la cosa importante è fare la terza dose, perché abbiamo un 20%, 18% a dire la verità, di adulti oltre 50 anni che non hanno ancora fatto la terza dose. Adesso una notizia di cronaca che riguarda le ferrovie dello Stato. Sono tuttora in corso verifiche da parte delle ferrovie sulla rete informatica aziendale, che questa mattina sarebbe stata vittima di un attacco hacker. I treni, dicono da ferrovie, circolano regolarmente, ma è stata sospesa temporaneamente la vendita dei biglietti nelle stazioni e nei sales service. Funziona invece la vendita online. I viaggiatori possono comunque salire a bordo e comprare il biglietto direttamente dal capotreno senza alcun sovrapprezzo, visto appunto questo disguido. Un'altra notizia ci porta invece a parlare di un'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari che ha scoperto un'associazione a delinquere che autoriciclava ingenti somme di denaro tramite un circuito di money transfer. 16 persone sono state denunciate. La procura di Cagliari ha anche ordinato il sequestro preventivo di 51 milioni di euro frutto del reato. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Subito dopo torniamo con lo sport, eventuali aggiornamenti come sempre. Restate con noi. Torniamo in studio, pagina sportiva che apriamo parlando della nostra nazionale di calcio che questa mattina è atterrata a Palermo. domani la sfida per i play-off, per poter partecipare al mondiale del Qatar. La prima delle due sfide che attendono gli azzurri di Mancini contro la Macedonia. Con la testa e con la fede è il Mancini pensiero che conigua le motivazioni umane con il credo religioso. Lui che non ha mai giocato un minuto di un mondiale con la maglia numero 10. La sfera terrena è quella che compete agli azzurri costretti a convivere con l'ossessione mondiale. Abbiamo tutto da perdere nel primo spareggio con la Macedonia del Nord, ma come dice Verratti, l'Italia è abituata alla pressione. Concettualmente giusto, ma non ci libera dall'ansia da prestazione che potrebbe subentrare in caso di difficoltà inaspettate. Sarebbe un errore macroscopico sentirsi già in finale con il pensiero a Cristiano Ronaldo, il suo Portogallo, oppure alla Turchia. L'Europa ha vinto in Bacheca, però adesso è azzerato. Conta solo il presente, che arriva in un momento di difficoltà per molti azzurri. Il setorenzo Offerenza è la difesa, con Emerson Palmieri, unico titolare della formazione di Wembley contro l'Inghilterra. L'altro esterno sarà Florenzi al posto dell'infortunato di Lorenzo. Al centro il Vulnus che agita Mancini. Bonucci e Chiellini vivono il momento crepuscolare. Bastoni promosso e il nuovo che avanza, per affiancarlo in certezza tra Cerbi e Mancini. Più delicato il discorso su Donnarumma, deve scrollarsi le negatività che lo accompagnano a Parigi e reagire dai grandi portiere. Il CT ha sondato il suo stalo d'animo andando in Francia. La luce deve accendersi con gli uomini di qualità, Verratti e Giorginio, più il dinamismo di Barella ancora non nel formato migliore. C'è poi l'annoso problema del gol, con Immobile in prima fila ancora chiamato all'esame di laurea. Con lui Insigne Berardi che viaggia a ritmo di roppiette, ora la certezza più limpida degli azzurri con 14 reti in campionato. Entro la mezzanotte Mancini deve scegliere i 23 da comunicare alla FIFA. Gli altri andranno in tribuna. La lista si può cambiare per l'eventuale impegno decisivo. A Palermo ci aspetta la nazionale Macedone che evoca uno spiacevole ricordo. Pareggio 1-1 nell'ottobre 2017 con l'approdo successivo all'infausta eliminazione con la Svezia. L'orgoglio di questo piccolo paese ha avuto il picco con la storica presenza all'ultimo europeo. Non c'è più il Totem Pandev, mancherà per squalifica il più forte, Elmas del Napoli. C'è una vecchia conoscenza del Palermo tra i coschi, mentre non è stato convocato Néstorowski dell'Udinese. Attenzione al talento Bardi del Levante. Adesso parliamo della notizia che in queste ore ha colto di sorpresa il mondo del tennis e i tanti appassionati. La decisione a nemmeno 26 anni da parte della tennista numero uno del ranking mondiale Ashley Barty di lasciare all'improvviso quello sport che sin qui le ha regalato tanta ricchezza e anche tanta gloria per inseguire, come ha detto lei stessa, altri sogni. Uno shock, così il Canale 10 australiano ha definito il ritiro dalle scene di Ashley Barty nel servizio d'apertura del suo telegiornale. Anche il primo ministro Scott Morrison si è detto sconcertato per questo annuncio a sorpresa che ha gettato nello sconforto un intero paese. Un addio inatteso per la numero uno del tennis mondiale, diffuso attraverso il suo profilo social. Chiudere in vetta è il sogno di ogni sportivo, ma per lei, in evidente controtendenza con la maggioranza di tanti colleghi per i quali la sfida col tempo diviene la vera ragione di vita, non è stato così. Oggi è una giornata difficile e al contempo emozionante per me, ha dichiarato la Barty. Ho dato tutto ciò che avevo per questo sport e ne vado orgogliosa. Sento che fisicamente non ho più nulla da dare, quindi è giunta l'ora di appendere la racchetta al chiodo, cosa che faccio senza alcun rimpianto. Tre stagioni in vetta alle classifiche mondiali, come solo le grandi Martina Navratilova, Steffi Graf e Serena Williams erano riuscite a fare prima di lei. Ashley Barty ha vinto i suoi principali titoli su tre diverse superfici, il Roland Garros del 2019 sulla Terra Rossa, Wimbledon lo scorso anno sull'erba del mitico Centre Court e, ultimi in ordine di tempo, gli Australian Open dello scorso gennaio, dove ha trionfato sul cemento di Melbourne, piegando la statunitense Collins in 2-7. Un trionfo casalingo che al tennis australiano mancava da ben 44 anni. Un palmarès ricco il suo fatto di 15 tornei vinti nel singolare, cui si aggiungono i 12 nel doppio, che le hanno permesso di mantenere la testa del ranking ATP per 121 settimane, di cui 114 consecutive. A tributarle il doveroso omaggio, oltre a tanti suoi colleghi, è stata la WTA, l'Associazione del Tennis Professionistico Femminile, che l'ha definita una tra le sue più grandi protagoniste, grazie al celebre rovescio tagliato, ma soprattutto a un'incrollabile professionalità e lealtà sportiva messe in mostra ad ogni torneo. La lunga videointervista fatta con la sua grande amica e allenatrice, Chesi dell'acqua, si è poi conclusa con una frase piena di significati. Da oggi inizierò a inseguire altri sogni. E con questo servizio si conclude questa edizione del telegiornale. La linea adesso va a Tagadà, come sembra a Tiziana Panella, ai suoi ospiti dalle 17, vi ricordo lo speciale condotto da Enrico Mentana sul conflitto in Ucraina. Grazie e buon pomeriggio sulla 7.